Nenzi Latini, stiamo entrando nel vivo delle manifestazioni legate a Christmas Land, però in realtà già dal 17 novembre siete partiti con una lunga serie di iniziative. Tracciamo un primo bilancio prima poi di entrare nel cuore delle manifestazioni natalizie. Sì, allora l'iniziativa Gubbio Natale è cominciata come dicevi tu il 17 novembre, abbiamo inaugurato la grande ruota panoramica che ormai è arrivato al suo secondo anno di installazione e abbiamo visto che comunque sta riscuotendo il suo grande successo. Il secondo step è stato proprio il primo dicembre con l'apertura del circuito Christmas Land. Christmas Land come ormai credo che tutti sappiano è un circuito di iniziative che viene svolta all'interno del centro storico in sei location diverse e prevede iniziative legate appunto al tema Natale. Ognuna comunque ha delle caratteristiche particolari. Aperto in maniera diciamo trionfale perché comunque già il primo e il 2 dicembre, anche inaspettatamente perché comunque non credevamo di poter ottenere un successo così grande, c'è stata tantissima affluenza soprattutto di turisti che da fuori sono venuti a visitare questo circuito e con l'occasione hanno fruito anche di tutte quelle che sono iniziative che già sono diciamo a pieno regime delle attività natalizie. Abbiamo un prossimo evento che si svolgerà sabato sera l'8 e il 9 dicembre domenica sera a partire dalle ore 18 e 30 qui in piazza Grande avremo il videomapping 3D. Un evento che descriverlo è complicato, credo che sia più bello viverlo, quindi suggerisco a tutti di farvi trovare qui a partire dalle 18 e 30. Sono spettacoli di videomapping che durano 5 minuti e vengono riproposti ogni 30 minuti. Tra uno spettacolo e l'altro sul Palazzo dei Consoli verrà proiettato un countdown che ci dirà quale sarà l'orario, quanto tempo manca per la proiezione successiva. Per cui invito tutti a partecipare a questo spettacolo, sarà una cosa mai vista, nuova, una novità per la città, un evento che sta riscuotendo tantissima attenzione anche da fuori. Insomma, aspettano tutti questo videomapping e noi aspettiamo tutti voi per vedere questa bellissima proiezione. Francesco Domenici, fra le tante iniziative di Gubbio a Natale, quest'anno ce n'è una che spicca, che è quella che avremo occasione di vedere l'8 e il 9 dicembre. Oltre a avere la bellissima coreografia dell'albero di Natale più grande del mondo, in questa bellissima piazza che cosa succederà? Questa bellissima piazza, sabato 8 e domenica 9 dicembre, come ha spiegato la mia collega Nancy Latini, il pomeriggio ci sarà un videomapping 3D. Ovvero, non è una semplice proiezione, ma è stata fatta una mappatura laser di tutta la facciata del Palazzo dei Consoli ed è stato riprodotto un modello in scala 1 a 1 della facciata, preciso al centimetro, quindi qualsiasi imperfezione della pietra, qualsiasi fuga tra una pietra e l'altra, è stato riprodotto tutto. Quelle due sere verrà proposto uno spettacolo della durata di 5 minuti, che poi verrà ripetuto, come è già stato detto, sulla facciata del Palazzo dei Consoli. Quindi le persone presenti vedranno non il Palazzo dei Consoli, ma la proiezione del Palazzo dei Consoli appoggiata sulla facciata stessa. Grazie a questa tecnica c'è la possibilità di realizzare degli effetti molto particolari, che sono effetti tridimensionali. Faccio un esempio, ma non credo che sarà tra gli effetti. Ad esempio potremmo vedere la facciata del Palazzo dei Consoli aprirsi come un cancello e dietro si vede il buio, oppure venire fuori qualcuno dal Palazzo dei Consoli, dalla facciata che si apre, muoversi in maniera particolare tutti gli elementi architettonici. La cosa importante è che gli effetti che sono stati creati sono stati fatti giocando proprio su quelle che sono le caratteristiche architettoniche del Palazzo dei Consoli, perché comunque sia la bellezza del Palazzo dei Consoli è sotto gli occhi di tutti, non deve essere, come dire, alterata per alcun motivo e quindi si vuole più che altro rendere omaggio al Palazzo dei Consoli e a quelle che sono le sue caratteristiche. Esaltandone quindi la bellezza? Assolutamente sì. Abbiamo la fortuna di avere una location del genere con una piazza meravigliosa davanti come questa, quindi proprio cercare di focalizzare l'attenzione sulle caratteristiche distintive del Palazzo dei Consoli, esaltarne la bellezza e creare qualcosa di sicuro impatto, perché comunque sia sarà uno spettacolo che vale la pena vedere. Sicuramente accorreranno tantissime persone, anche perché anche grazie ai nostri canali in molti lo sapranno, un fine settimana particolare perché diciamo che è questo quello che apre poi il cuore delle festività natalizie. Non saranno solo persone di gubbio che verranno qui. C'è una posizione particolare secondo te dove sarà ancora meglio poter vedere? L'unica posizione sicuramente da non mettersi è dietro l'albero, a parte quello no, a parte gli scherzi, sarà assolutamente visibile da qualsiasi punto della piazza perché la proiezione verrà effettuata dalle finestre alte di Palazzo Pretorio con due proiettori, quindi si ricreerà tutto un effetto 3D sulla facciata. Come dicevi tu prima, sarà un fine settimana ricco perché chiaramente su tutto c'è l'accensione dell'albero di Natale e il 7 pomeriggio. Quindi oltre agli ogubini ci saranno molti turisti, ci saranno anche i raduni camperisti che quest'anno ci dicono avere molte iscrizioni, sono in linea qualcosa in più rispetto all'anno scorso, quindi ci aspettiamo tanta gente. Tra l'altro il videomapping siamo stati in grado di poterlo realizzare quest'anno grazie al supporto fondamentale di alcuni sponsor, tutti locali, a parte uno che è legato al mondo dei camperisti che è Plenair, per il resto sono aziende del territorio che hanno creduto nel progetto e ci hanno supportato per questo e per tutte le altre attività che stiamo facendo. Un grazie va a loro perché se è stato possibile realizzarlo è grazie a loro. Vi aspettiamo numerosi, non perdetevelo, c'è la possibilità di vederlo in due giorni, di vederlo ripetuto, quindi non sarà un'occasione unica solo da non perdersi ma ci sarà la possibilità per tutti. Fino a che ora? Perché abbiamo detto dalle 18.30 fino alle? Fino alle, allora indicativamente saranno le 11 della sera, comunque sia vediamo anche in base al flusso di gente che ci sarà, finché c'è gente andiamo avanti. Chiaramente poi a una certa ora interrompiamo anche perché comunque ci sono degli effetti sonori legati alla proiezione perché danno quel tocco in più e insomma armonizzano quello che vede l'occhio, e quindi entro una certa ora poi verrà interrotto. Quindi sabato 8 e domenica 9.